Hai una gelateria e sei la titolare. Ma fai anche la cameriera. E l'interior designer. Ti occupi del controllo qualità e pure di fare i conti. Per la tua attività pensi già a tutto. Liberati dal pensiero dell'energia. Attiva energia flat repower, elettricità e gas a tariffa fissa mensile, tutto compreso. E non ci pensi più. Grazie.